Nel primo pomeriggio di ieri a Piagine si è sfiorata una tragedia. Un operaio addetto alla rimozione dell'illuminare originario di massa di Vallo della Lucania è caduto nel tentativo di fermare un furgoncino utilizzato per i lavori. Il veicolo si è avviato lungo la strada finendo contro un'abitazione. Il giovane nel tentativo disperato di fermare il mezzo è caduto riportando diverse ferite. Nonostante le gravi condizioni in cui versava, i soccorsi sono arrivati con ritardo. Al south di Piagine non era presente il medico di turno e il dottore in servizio al south di Berlosquardo ha impiegato diverso tempo per raggiungere il luogo dell'incidente. Nel frattempo i passanti hanno dovuto richiedere l'intervento di un medico della zona per prestare i primi soccorsi. L'operaio è stato successivamente trasportato all'ospedale di Roccadaspide dove sta ricevendo tutte le cure necessarie e si sta sottoponendo agli esami del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania e i carabinieri della stazione di Piagine con gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'accaduto.